Oggi si presenta qui a Morciano il team MR Racing, è un team di Moto3 che partecipa al campionato italiano e il momento è importante perché da oggi si stringe anche un accordo di partenariato, un accordo di media partner tra Rossini TV e il team e questo significa che noi seguiremo le vicende di Matteo Morri, il pilota del team e vi faremo soprattutto vedere la moto che seguiremo per tutto il campionato italiano Moto3. Non si parla di aspettativa, si parla di obiettivi, l'obiettivo mio è ovviamente quello di vincere, vista tutta la preparazione mia che ho fatto, tutta la moto perfetta e quindi l'obiettivo è arrivare davanti, poi si vedrà le possibilità che abbiamo. Secondo me ci sono molti piloti, molti già in un certo senso affermati perché comunque correvano già nella Moto3 gli anni scorsi e secondo me ci sarà anche qualche rookie molto forte. Il bello di questa scelta è nato da un'esigenza di arrivare sempre più in alto, io ho già collaborato con altri team e già nel 2019 abbiamo vinto il campionato italiano, quindi questo già è un buon feedback per noi. Da lì abbiamo scelto delle persone professionali e nello stesso tempo che diano a Matteo e a noi quello che magari per un team giovane può essere già una storicità e una forza e una maturazione per andare avanti e diciamo così non aiutare i concorrenti. Quello che ha fatto fare questa scelta è stata che nel percorso di due anni addietro con Massimo e con Matteo si è creato un feeling esagerato sia con le famiglie perché ci vogliono anche le persone corrette, le persone giuste, le famiglie giuste e anche i ragazzi giusti che devono crescere. Abbiamo sempre creduto che per arrivare a certi obiettivi bisogna essere coscienti che si può arrivare a certi obiettivi perché se no sarebbe tutto il tempo perso. Matteo è già due anni che guida questa moto, fra l'altro l'anno scorso ha fatto già due anni di campionato italiano, ha fatto un anno di campionato moto estate che fra l'altro ha vinto, facendo anche segnare dei record su vari circuiti, quindi dovrebbe essere avvezzo a questo tipo di motore. Poi le corse sono sempre difficili da interpretare, però siamo fiduciosi. Stiamo parlando di un campionato italiano che si disputa su sei weekend, ogni weekend, ogni fine settimana sono due le gare e non sono due match, sono proprio due vere e proprie gare, per cui sono dodici gare e un campionato già con un bel numero di competizioni. È un campionato fra l'altro a livelli molto alti, l'anno scorso si è dimostrato dal fatto che molte volte si è avviaggiato, si è corso in diversi circuiti a 4-5 decimi dai tempi del mondiale, quindi parliamo di veramente poco. E si è dimostrato il fatto che ci sono piloti che sono passati direttamente dal campionato italiano al campionato mondiale.